Ci sarà tempo fino al 22 giugno prossimo per presentare le osservazioni al piano di completamento della E78 riguardo il nodo di Arezzo che aveva in virtù degli espropri previsti creato non poche preoccupazioni tra la popolazione residente delle zone interessate. Il commissario straordinario al completamento della E78 Massimo Simonini ha incontrato nelle scorse ore presso la regione toscana l'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli e il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli alla presenza dell'assessore Francesca Luccherini e dei tecnici delle rispettive strutture. Nell'ambito dell'esame dell'iter amministrativo dell'otto Sanzeno Arezzo Simonini ha chiarito che il termine di presentazione delle osservazioni da parte dei privati in merito alle procedure di esproprio decorre dall'ultima pubblicazione ovvero è da intendersi al 22 giugno 2023. La scadenza fissata del 22 giugno è un importante risultato che ci consente di partecipare alla conferenza dei servizi addetto Ghinelli con proposte studiate e valide delle quali il comune si farà portavoce. Siamo consapevoli che l'opera in questione sia indispensabile non soltanto per il nostro territorio ma per l'intero collegamento infrastrutturale nazionale siamo altrettanto soddisfatti che finalmente sia diventata concreta. Ugualmente dobbiamo agire in difesa del nostro territorio e a tutela dei nostri cittadini. Siederemo al tavolo tecnico della conferenza dei servizi portando il nostro contributo. Ghinelli infine invita i cittadini che sono stati raggiunti dall'avviso di avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio a valutare eventuali interferenze con la loro proprietà e ad avanzare apposita istanza all'ANAS per la mitigazione degli effetti negativi.